Un'altra pensazione! Anche! Anche a caso! Venite! Granata! Un'altra! Granata! Oh, cazzo! Una navetta! Alla zona d'atterranno! Presto! Presto! Siamo... Castagni facili qui! Muoversi! Ilanatrice! 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 Il figlio di puttana! Cyclob 7 è a terra, ripeto! Cyclob 7 è a terra! Compagnia Charlie! Radunatevi intorno a me! Rifornitevi e ricaricate! Mazzeremo la posizione! Comando, qui Cino! Siamo quasi! Occhio! Vedo una vette diretta verso di voi! Ricevuto, Cino! Avete sentito? Preparatevi, gente! Alcatraz! Temo che gli eventi mi stiano sfuggendo di mano! La tua tuta adesso sta lavorando sulle spore! Riprogrammando la livello nanometrico e costruendo un ponte biologico tra la nostra tecnologia e quella dei chef! Ma ci serve più tempo! Vai con i marini! Fate ciò che potete! Non vi ho abbandonati, Alcatraz! Ma se vogliamo vincere, non possiamo risparmiarci in alcun modo! Navette, in arrivo! Tenete la posizione e respingete questi strocci! Voglio l'aria sicura! Arrivano dal forco! Arrivano dal forco! Arrivano dal forco! Occhio! Occhio! Stanno a metter! Oh, merda! Attento! Due virali della metropolitana! Attenso! Abbandonati! Buongiorno dal forco! Buongiorno dal forco! Buongiorno dal forco! Alcatraz! Aspettaci! Arrivano! Buongiorno dal forco!